Forza, fai questa partenza, forza, fai questa partenza, dove sta? Invece la mattina lo vuole così. Cioè non riesco a stare nemmeno ferma. Questa sta? Ah, vedi Alessandra? No, questa è la telecamera. La telecamera è la mattina. Questa è la telecamera. Questa non è la telecamera. Grazie a tutti.